Ciao a tutti, oggi un nuovo unboxing a tema blind box di Miniso. Se non lo sapete o non l'avete ancora visto, sul canale c'è un altro video a tema. Quindi se volete andare a recuperarlo lo trovate qualche video di tempo fa. Alla stazione di Napoli, stazione centrale di Napoli, c'è questo negozio Miniso. So che anche in altri posti d'Italia, in altre città, ad esempio l'avevo visto anche a Bologna, mi sa che c'è anche a Firenze e altrove. E' un negozio molto kawaii, cute, tiene un sacco di cose giapponesi e simili. Quindi è molto carino, se lo trovate andateci a fare un giro. E vende anche delle blind box di vario tipo. Ci sono blind box a tema Disney, a tema Tokidoki, a tema invece Sanrio. Quindi ci sono molte cose a tema Sanrio e molte cose a tema Disney. Questa volta ho scelto queste due blind box. In realtà questa qui, Fairy Town della Disney, ne ho già aperta una sul canale. Quindi se volessete curiosi andate a rivederla. Allora, inizierei da questa qui della Sanrio, che mi ispirava tanto. Allora, è un po' pasquale come blind box, però all'interno ci sono questi sei possibili personaggi. Quindi ci sono il Little Twin Star, Lala e Kiki. Poi c'è My Melody, c'è Pompon Curin, Cinnamon Roll e Kuromi. E sono tutti fluffy, quindi sono pelusciosi. Tra tutti questi vorrei trovare uno di questa fila qui. Quindi mi piacerebbe trovare o Kiki, o Pompon Purin, oppure Cinnamon Roll. E sembrano belle grandi, quindi anche le blind box sono tutte belle pesanti. Questa qui della Sanrio, vedete, è originale e l'ho pagata 9,99€. E sono delle figure da collezione raccomandate per età superiori ai 15 anni. Eccola qua, molto bella. Hanno tutte l'apertura facilitata, come vedete qui. E questa collezione della Sanrio si chiama Rabbit. Perché hanno tutti, diciamo, vedete, una sorta di costume a coniglietto. Allora, iniziamo ad aprire questa prima blind box. Fatemi sapere se l'avete aperta e qual è il vostro preferito dei personaggi della Sanrio. Allora, vediamo un po', senza spoilerarci, chi troviamo. Quindi c'è sempre la card all'interno di queste blind box. Allora, davvero pesante. E vediamo un po' chi troviamo. La blind box è fatta così, molto semplice. E vediamo, c'è anche qui l'apertura facilitata. E abbiamo... no! Quello che volevo! Bellissimo! Abbiamo trovato Pompon Purin. È tutto fluffy, peluscioso. Ed era quello che volevo trovare. Quindi, super contento di questo unboxing. Vedete, qui c'è scritto Pompon Purin Sanrio. È in una collezione del 2022, mi sa. Ma non mi interessa. Era proprio quello che volevo trovare. È molto, molto bello. Mi piace. È bella anche la texture pelusciosa. Mentre è lucido in alcuni punti. Vedete, poi ci stanno questi dettagli molto pasquali. Quindi mi sa che era la collezione di Pasqua dell'anno scorso. Siamo un altro po' a Natale, però molto carino. E all'interno poi di ogni box, sì, c'è la card del personaggio. Quindi questa è la serie della Sanrio Rabbit. E abbiamo trovato Pompon Purin. Sì, serie 2000... In realtà, no, sta scritto qua 2023. Comunque, molto carina. Mi piace. Molto contento di questo primo unboxing. Per farvi vedere con quelli della Trudy che ho comprato in edicola, vedete, è molto, molto più grande. Anche questi erano fluffy. Poi, allora, questo era il primo personaggino. Allora, faccio un po' spazio. E andiamo a vedere cosa troviamo. In questa qui della Fairy Town, qui ci sono nove possibili sorprese. Questa costa un po' di più, quindi questa l'ho pagata a 14,99€. Vedete, ci sono queste nove principesse. C'è Jasmine, Belle, Rapunzel, Mulan, Ariel, Merida, Biancaneve, Cenerentola. E penso che questo sia il secret. In questa confezione c'è un secret di Aurora. La bella addormentata nel bosco. Allora, tra tutte queste vorrei trovare Merida o Ariel o Rapunzel. Quindi sono queste tre quelle che mi ispirano di più. E vediamo un po' se saremo fortunati. Ok, spero di non trovare doppioni. In realtà ne sono solo uno di questa serie, quindi le probabilità sono basse. Ma con la fortuna che ho, mai dire mai. Ok. E vediamo un po' chi troviamo. Questa è la Blind Bag. Fairy Town Disney. Fairy Town Disney. E vediamo un po' quale principessa troviamo. Speriamo. Ah, ok. Abbiamo trovato Cenerentola. E' davvero fatta bene. C'è questo dettaglio della carrozza. Non so se vedete, traslucido. E' fatta così. Non era proprio la mia preferita. Tra tutte. Allora, ve la mostro un po' bene. Allora, questo è il dettaglio del retro. Con tutti i particolari. L'acconciatura. E questo è il vestito. La carrozza a forma di zucca. che si sta trasformando. Poi abbiamo la card Cinderella. Eccolo qua. Cenerentola. E dovrebbe poi esserci l'ultimo dettaglio. Che è questo qui della scarpetta di cristallo. Era quella più semplice secondo me tra tutte. Però, vabbè. Magari ne comprerò qualcun'altra. Vedete? La scarpetta è davvero microba. Piccolissima. Però fatta molto molto bene. E purtroppo si appoggia solo. Quindi non c'è un incastro vero e proprio. Quindi c'è il rischio di perdita molto alto. Sì. Mi sa che non si non si incastra. Allora. Questa era la la figure. Mi piace molto. Continua a essere della mia idea. Quindi avrei preferito Merida che è più particolare. Vedete anche Rapunzel e Arie che hanno i personaggi. Quindi avrei preferito una con i vari personaggi. E niente. L'importante è che non sia un doppione. Spero che questo video a tema Miniso vi sia piaciuto. Nel caso mettetevi un like al video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E fatemi sapere nei commenti se vi possono piacere altri unboxing a tema Miniso. E alla prossima. Ciao! 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 Ciao!